Ciao amici, sono qui per parlarvi di un'importante associazione Onlus che si occupa di progetti benefici a livello mondiale, con particolare attenzione alle donne e ai bambini. Time to Love. Time to Love è anche il nome dell'evento che si terrà giovedì 10 settembre al Palabanco di Brescia. Anch'io darò il mio contributo esibendomi in console. Sul palcoscenico si esibiranno e ci saranno tantissimi altri artisti del mondo dello spettacolo, dello sport, della tv, del giornalismo e della radio. Time to Love festeggia la musica e la vita. Non potete mancare, il vostro contributo è fondamentale e assolutamente importante. Ciao da Christian Marchi.